Ciao amici sportivi e benvenuti qui sul secondo canale, sono qui per portarvi il post partita di Parma Torino e vi chiedo scusa per il ritardo ragazzi, purtroppo ho visto tutta la partita se non gli ultimi 2-3 minuti compreso il recupero più che altro perché sono dovuto scappare per una commissione importantissima e vi devo portare il post partita con due ore di ritardo, vi chiedo scusa per questo ma non potevo fare veramente altrimenti veniamo alla partita, veniamo a parlare della partita allora ragazzi, è stata una partita tosta, una partita difficile che mi ha fatto sudare freddo più che altro perché avevamo le stesse identiche problematiche della partita col Frosinone cioè non avevamo né inglese, né Bruno Alves, né Gervinio, senza i tre più forti della squadra e andare a giocare contro la squadra come il Torino dopo questi risultati negativi che avevi avuto una squadra forte come il Torino non era assolutamente un'impresa facile ci voleva assolutamente una reazione di carattere, ci voleva un atteggiamento diverso ci voleva un pubblico fantastico e tutto questo c'è stato ragazzi vincere là sarebbe stato un sogno e molto 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 difficile il pareggio sarebbe stata la cosa perfetta e ciò è accaduto il Torino sebbene sia una squadra forte secondo me non aveva delle grandissime come posso dire motivazioni ecco per questa partita sì volevano i tre punti perché comunque vincere sempre è importante però non hanno avuto le motivazioni giuste contrariamente a noi che abbiamo avuto il carattere giusto finalmente, finalmente il carattere vedete che quando mettete il carattere in campo la partita in un modo o nell'altro i punti si ottengono lo vedete che con il carattere e l'atteggiamento giusto si ottengono c'erano ragioni i boys ragazzi i boys hanno detto, cioè i tifosi del Parma, della Curva hanno detto siamo tutti colpevoli di questo atteggiamento siamo tutti quanti colpevoli di questo cattivo girone di ritorno quindi tutti insieme dobbiamo uscirne fuori pubblico, società e giocatori compresi e ciò è accaduto ragazzi fantastico il pubblico del Tardini un'emozione veramente bella vedere il pubblico in questo modo bello andare allo stadio così veramente fantastico bella tra l'altro anche finalmente l'ha capito mi viene da dire l'idea da Versa di finalmente cambiare modulo cioè lui non ha i tre attaccanti titolari in questo momento non ce li ha perché si è rotto pure Bia Biani ci aveva Sprocati, Siligardi e Ceravolo in un primo momento ha giocato con questi tre quando poi è sceso Ceravolo che comunque ragazzi prestazione fantastica GG e Ceravolo tantissima roba veramente grande Fabio quando metti questa cattiveria e questa grinta il pubblico ti può soltanto applaudire dicevo è cambiato completamente il modulo è passato dal solito come facevamo sempre mettendo 5 dimensori al 3-5-2 un modulo diverso un modulo che ha retto molto molto bene appunto le azioni offensive del Torino il Torino che non è mai stato effettivamente pericoloso ecco è stata una partita molto equilibrata addirittura col Parma che secondo me poteva anche se fosse stato in forma ottenere qualcosina in più il Torino comunque è più forte e si è visto in campo questo a livello qualitativo è più forte però col carattere siamo riusciti a venire fuori e a pareggiare una partita che secondo me è stata una partita molto molto bella una partita che ti dà modo di venire fuori venire a galla dal disastro che stava incombendo da lì a poco veramente siamo a 34 punti un punto guadagnato che è oro oro colato oro colato è un punto che ti fa fa venire voglia di farne altri ecco speriamo veramente che ora siamo usciti da questo marasma tutti insieme la cosa figa è questa che siamo usciti tutti insieme tifosi giocatori e allenatore e società tutti insieme ne siamo usciti fuori da questo problema continuamente perdere essere lo zimbello della Serie A dove tutti venivano da noi a far punti ora hanno capito che non è più così o almeno lo speriamo voi avete visto la partita cosa ne pensate fatemi sapere in un commento qui sotto ragazzi io devo volare via tra l'altro devo caricare con i dati cellulare quindi è meglio che dura poco il video perché non ce n'è grazie a me avete visto questo video ragazzi un saluto ciao da Papirus e Forza Parma dai che la salvezza è vicina